Presidente Ciafardoni, la squadra comincia a prendere forma, manca ancora un mese all'inizio del campionato, come sta avvenendo questo gruppo quasi completamente nuovo? Ci sono state delle indicazioni positive, sicuramente qualcosa di negativo, insomma non si può pretendere dopo 8-10 giorni di allenamento già chissà che cosa, però lo spirito del gruppo, la voglia di sacrificarsi, i giovani ragazzi che si sono battuti, tante cose positive, siamo comunque contenti, era il primo allenamento congiunto, come si chiama adesso, la prima amichevole del campionato, siamo felici. Lei sicuramente come coach Gramenzi non vorrà fare proclami, però il blasone, la storia di questa società, di questa piazza, sicuramente portano ad avere delle ambizioni alte o no? Ma noi in questo momento sappiamo di aver messo solo una squadra sicuramente molto solida e sicuramente anche competitiva, vorremmo dare tante soddisfazioni ai nostri tifosi, è il campo che parla, noi possiamo essere i più bravi manager, direttori sportivi, allenatori, siamo sempre fuori dal campo, poi alla fine parla tutto quello che accade dentro al campo.